Buongiorno, ben ritrovati, buon sabato mattina, questa è Occhio ai giornali, la rassegna stampa di Fano TV, canale 17 in tutta la regione Marche. Apriamo come sempre lo spazio dell'informazione sfogliando insieme a voi i giornali che poi troveremo naturalmente in edicola, ma non prima di aver visto le previsioni del tempo e anche il santo del giorno. Incominciamo proprio dall'almanacco di oggi, oggi è sabato 11 marzo, San Costantino, re e martire, il sole è sorto alle 6.26 e tramonterà alle 18.10. Allora il tempo, il tempo ci regala una previsione direi sostanzialmente molto buona perché almeno le previsioni sono sia per oggi un cielo sereno poco più nuvoloso, senza nessuna precipitazione, le temperature in lieve diminuzione, il mare è mosso ma con moto ondoso in graduale attenuazione e ci saranno raffiche di vento da est. Per domenica uguale, ci sarà sostanzialmente un tempo simile a quello di oggi, sereno poco più nuvoloso, lievi e innocue velature, senza nessuna precipitazione e le temperature saranno in lieve ripresa e con venti di brezza appunto dicevo da sud. Mare poco mosso invece per lunedì ugualmente, insomma vedete, didascalie molto scarne e simbologia molto eloquente sulla cartina della protezione civile delle marche. Allora, iniziamo dai giornali, naturalmente tiene ampio spazio sulle pagine la notizia del Cavalcavia che è stata ripresa in tutte le sue forme e continueremo ancora a guardarlo. Apriamo la pagina del Corriere Adriatico che lancia l'ipotesi del PM che dice all'anno sollevato troppo, ponte crollato. L'ipotesi del PM, qual è appunto questa? L'errore umano, gli errori degli operai che hanno lavorato insomma non in maniera consona e quindi hanno ceduto i supporti, gli scriccoli del cemento e il superperito, le competenze che servono contro il destino. Questo è il lancio del Corriere Adriatico e vediamo appunto l'ipotesi suffragata da una serie di grafiche che spiegano appunto come viene effettuato il sollevamento di ponti. In questo caso c'è come vedete qui l'immagine del ponte, del mostro di cemento e poi i vari reading che vi mostrano i supporti, come è andata. Ponte quindi sollevato troppo, il disastro per un errore, l'eccessivo innalzamento su un lato con i martinetti avrebbe potuto insomma togliere l'equilibrio al Cavalcavia. Gli operai hanno sentito scricchiolare il cemento e sono scappati per non essere schiacciati e ora come sempre avviene insomma una pratica tipicamente italica, quella del dopo. Adesso tutti i ponti saranno passati ai raggi X, ci vogliono i morti naturalmente per fare le cose. In regione nessun sollevamento ma tre cedimenti negli ultimi cinque anni, il vero nemico, le alluvioni. Oltre mille le strutture provinciali è l'opera più importante tra Corinaldo e Mondavio che costerà 2,6 milioni di euro. E qui vedete insomma un elenco delle principali città sul territorio marchigiano che hanno ponti, andiamo da Pesaro, Adascola, Macerata, Ancona, insomma ogni provincia ha i suoi ponti, i suoi cavalcaferrovia. Ed eccolo qua, quello di Pesaro, camion e traffico da scoppiare sotto esame, finiscono tre ponti appunto. Il comune ha stanziato 200 mila euro per interventi di revisione, già partiti i sopraluoghi. Ancora dalle pagine del resto del Carlino di Pesaro, però cambiamo argomento, andiamo sulla cronaca, vi abbiamo dato notizia i giorni scorsi dell'arresto appunto da parte dei carabinieri di peso di quella banda che si intruffolava negli appartamenti, la banda dell'Happy Hour che agivano dalle 18 alle 21 e recuperata tanta refurtiva che vediamo anche qui nelle immagini del Corriere Adriatico. E adesso c'è la processione giustamente in caserma per riconoscere i propri beni, i propri monili portati via in qualche furto e vedere se rientrano in queste decine. Le chiamate i carabinieri per chiedere di visionare la refurtiva, una cinquantina i preziosi recuperati che al momento restano sequestrati e insomma che speriamo trovino presto i loro legittimi proprietari. Andiamo ad Urbino con il Corriere Adriatico. Il rombo del Motoclub Ducale scorterà l'ultimo viaggio di Luigi, oggi a Gallo di Petriano il giovane, il funerale del giovane meccanico morto in un incidente a Trasanni. E vedete qui Prada per gli amici, questo era il suo nickname, deceduto a 32 anni, giovedì sera sulla sua moto a Trasanni. Ancora dalle pagine del Corriere Adriatico però andiamo a Fano dove c'è una denuncia pesante dei 5 Stelle, Le mance elettorali per le associazioni palesi violazioni e fondi non equi nel Mirino sono finiti 35, quasi 36 mila euro elargiti alla Fondazione Teatro per spese di gestione non meglio specificate. I 5 Stelle, i grillini, vedete qui nella foto Adar Omiccioli e Fontana, che insomma appunto inviano alla Corte dei Conti una segnalazione e annunciano attualmente di rivolgersi alla Procura per avviare un'indagine su queste elargizioni, su questi fondi a pioggia come abbiamo detto. Fano, la tragedia dell'operaio della Profilglas, cade dal tetto e muore, indaga l'ispettorato del lavoro, rabbia per Morris, gli amici sono increduli, disposta all'ispezione cadaverica del giovane, precipitato da 12 metri dalla Profilglas. L'ultimo saluto, probabilmente il giorno del funerale, quando sarà stabilito, si terrà probabilmente a Sant'Orso. E ancora cambiamo argomento, si spazia su diversi argomenti nei giornali in questa edizione del sabato. Fano sui pedali, è stata lanciata la progettualità delle piste ciclabili, delle vie ciclabili per Fano, un progetto molto ambizioso, verranno realizzati 112 chilometri complessivi tra Assi ed Anelli, Poderino e Sant'Orso saranno dei quartieri anche simbolo di questa viabilità, una viabilità nuova che abbassa impatto ambientale con ridotte velocità, insomma è una progettualità anche dai costi impegnativi, si parla di 19 milioni di euro, ma adesso vedremo dove si troveranno e dove si reperiranno i fondi, qui vedete ecco una cartina che mostra come verrà sviluppata questa rete ciclabile, sarà praticamente una ragnatela che avvolgerà tutto il centro e i quartieri di Fano. Dalla Val Cesano c'è la cronaca, furti e tentato omicidio per i responsabili del speronamento dell'auto dei carabinieri che vedete qui che hanno con grande senso del dovere, sacrificio, bregazione, insomma anche sprezzo del pericolo, non ci hanno pensato due volte, si sono messi in mezzo alla strada, vedete, per sbarrare la strada all'auto di quelli che avevano fatto questo furto in questo casolare abbandonato, si sono piantati lì e questi malviventi, questi insegurati non hanno pensato bene che andargli contro a tutta velocità, nonostante i carabinieri siano finiti comunque in ospedale, dopo li hanno comunque amanettati due e uno e due, altri due si sono dati alla fuga e di più non potevano fare viste le loro condizioni, ma una caccia all'uomo a tutto campo con mezzi aerei anche ha fatto sì che questo, il più anziano 66 anni che era il fuggitivo sia stato ritrovato anche grazie all'utilizzo di supporto aereo del aeroclub di Fano che insomma lavora in sinergia con le forze dell'ordine, protezione civile ed in questo caso è stato determinante, caccia all'uomo all'ultimo, insomma sul calare della sera è stato scovato e braccato a pergola, ora si cerca il quarto uomo, quello che insomma non, che poi materialmente era l'autista che guidava la macchina, ma i carabinieri sono sulle sue tracce. Andiamo appunto ancora nella pagina di Senigallia, vi porto a Senigallia con il corriere costretto a salire in auto da due sconosciuti, anziana sotto sciocca, ora sanno dove abito, Senigalliesi di 84 anni addescata in via Giordano, la figlia dice temiamo che vengano a rubare in casa e insomma gli anziani sono sempre l'obiettivo prediletto di questi sciagurati perché chiaramente sono indifesi, hanno delle basse, insomma sono anche forse in buona fede, magari è più facile carpire la loro attenzione e la loro buona volontà. Ancora la Senigallia, otto profughi armati di vanga e zappa danno vita agli orti urbani in via Mattei, imponente lavoro di pulizia, di rifugiati, ospiti della città, mandolini dice esperienza sicuramente da ripete, ecco gli orti sociali in via Mattei ribuliti e bonificati da otto profughi. Bene, allora il resto del Carlino, l'apertura del resto del Carlino, una pagina completamente diversa dalle altre, su che cosa si punta? Foto notizie, il nostro mare, il nostro mare è sotto esame, ma che cosa troviamo nei nostri fondali? addirittura specie aliene e tropicali nell'Adriatico, allarme dei pescatori subacui, non si trovano più crostacei e pesci nostranei, quindi insomma vediamo poi nelle pagine successive che cosa si trova, Manette ha un dipendente dell'ospedale, Sasso Corvaro bloccato con sette etti di hashish in auto e poi caccia all'area al rom fuggito, caccia aerea al rom fuggito nel bosco appunto che abbiamo visto prima decisiva la partecipazione dell'aeroclave di Fano. Allora cosa troviamo nei nostri mari secondo il resto del Carlino? Non ci sono più cannellini e cannelli e telline che sono ormai diventati rarissimi e pensare che c'erano anche le ostriche in pochi decenni tutto è cambiato, Gilberto Pascucci, veterano del club Tridente, 50 anni di immersioni subacquee, insomma ci dice che praticamente prima c'erano le ostriche, ora non ci sono più e insomma quindi ci troviamo di tutto tranne quello che dovrebbe esserci, insomma vi leggete l'articolo che è sicuramente interessante da questo punto di vista, l'invasione delle specie aliene dalle noci di mari che sembrano meduse ai temibili barracuda, anche i barracuda sono presenti da noi, mutazioni continue in terra ci sono nutrie, gamberi americani, zanzara tigre e insomma tante altre cose che prima sicuramente un decennio e qualche altro tempo fa non trovavamo. anche qui risalto per l'operazione del carabinieri con l'ausilio dell'aeroclubb, del mezzo dell'aeroclubb che ha circoscritto l'area e sorvolato l'area per appunto indurre i malviventi a sentirsi braccati e tutto è andato bene, sinergia perfetta tra carabinieri e piloti per l'arresto del rom a tempo di reco, in 10 minuti l'aereo è arrivato sulla verticale del luogo e da terra i militari hanno fatto la classica morsa a tenaglia che ha braccato praticamente il fuggitivo e quindi non c'è stato scampo per lui la pagina di Fano del resto del Carlino, la rivolta dei turisti in camper perché che cosa trovano in Viale Kennedy che è l'area insomma adiacente al cimitero attrezzata, c'è la piazzola di scarico per le acque scure, c'è il rifornimento dell'acqua quindi insomma i camper vanno lì ma che cosa trovano? Trovano rom accampati in quell'area l'assessore Fanesi a lato, Cristian Fanesi vedete nel tondo è l'area destinata ai camper che è questa qui i provvedimenti dovranno essere presi provenienti da fuori città i camperisti ma ci sono alcuni che invece ci risiedono stabilmente la denuncia arriva dal camping club di Fano che aveva segnalato da tempo la presenza di abusivi l'ultima pagina del resto del Carlino che vi faccio vedere, l'ultima anche per questa rassegna stampa riguarda appunto la denuncia dei contributi a pioggia da parte dei 5 Stelle che hanno appunto intenzione di rivolgersi a procura e corte dei conti vogliamo capire, dicono i pentastellati, se ci sono rispettati i regolamenti o se c'è abuso o danno erariale bene, questa era l'ultima pagina che vi facevo vedere, termina qui Occhio e Giornali, la rassegna stampa in diretta di FanoTV un saluto anche a tutti coloro che ci seguono in replica fino alle 13.30 Occhio e Giornali tornerà domani mattina alle 7.30 puntualmente grazie, buon sabato e buon fine settimana a tutti voi grazie, buon fine settimana a tutti